Impegno in trasferta per la Turris che domenica sarà di scena allo stadio Giovanni Paolo II Nuovo Arredo Arena contro i padroni di casa della Virtus Francavilla, con fischio d'inizio fissato alle ore 16. I corallini, reduci da un esaltante trittico di vittorie, l'ultima delle quali contro il quotato Catanzaro e saliti fino al terzo posto in classifica sorpassando proprio i calabresi, scenderanno in campo con una formazione leggermente rimaneggiata a causa di infortuni e squalifiche. Mr. Bruno Caneo contro i bianco-azzurri pugliesi infatti doveva fare a meno di manzi appiedato alla giudice sportivo, al quale si aggiunge il probabile forfè di Ghislandi oltre a quello di Longo. Intanto in settimana c'è stato un nuovo incontro tra il presidente Colantonio e il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli, che dopo aver assistito direttamente a Liguori al match della Turris definendola una delle migliori del campionato di Serie C, pare abbia aperto la possibilità che il comune di Torre del Greco possa ricevere dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il sostegno economico necessario per la costruzione di un nuovo impianto sportivo polifunzionale, anche per dare una casa più adeguata al livello raggiunto dalla compagine Corallina negli ultimi anni.